Buongiorno a tutti, sono Luccheneas Filimbergo, Regional Manager di Geffen. Siamo qui alla Fiera Providen Sound a Francoforte a mostrare le novità di Geffen per l'inizio 2013. Questa soluzione che vedete dietro di me è una soluzione di distribuzione video HDMI, pensata per applicazioni nelle quali bisogna raggiungere un elevato numero di schermi. Al contrario di altre soluzioni, la soluzione di estensione a cascata permette di estendere un segnale partendo da un trasmettitore e raggiungendo uno splitter o repeater che oltre a fornire l'uscita HDMI per un monitor locale, fornisce anche un rilancio sempre su cavo categoria 5 che permette di raggiungere un secondo monitor fino a 100 metri di distanza. Ogni repeater ha due porte di uscita in categoria 5 che permette quindi di realizzare anche strutture ad albero in modo in cui crea una ulteriore ramificazione della distribuzione HDMI. Questa soluzione distribuisce anche un segnale seriale RS232 per comandare i monitor per accenderli e spegnerli simultaneamente. Per la parte del controllo abbiamo anche un canale di ritorno infrarosso che mi permette di portare da ogni monitor il segnale di comando alla sorgente nel caso utilizzassi un lettore Blu-ray di un altro apparato. Sul tema matrici per distribuzioni un po' più complesse al ProLight & Sound presentiamo la matrice modulare HDMI. Disponibile sia in formato 32x32 che in due formati più piccoli 16x16 e 8x8. Questo permette la composizione modulare di un'unità completa aggiungendo schede con ingressi o uscite HDMI locali oppure ingressi con uscite remotizzate tramite extender. Supportiamo sia extender su categoria 5 tramite il protocollo HDBaseT che extender in fibra ottica. Nel caso dell'extender su categoria 5 l'extender ricevitore non ha bisogno di alimentazione perché l'alimentazione viene portata sul cavo di link tramite la tecnologia HDBaseT. Le matrici sono controllabili sia con il pannello pulsanti frontali sia con collegamento seriale RS232 che grazie all'interfaccia IP con il web server integrato. Grazie.